La lingua che io parlai fu tutta spenta, innanzi che all'ovra inconsumabile fosse la gente di Nembrot attenta. Che nullo effetto mai razionabile, per lo piacere umano che rinnovella seguendo il cielo, sempre fu durabile. Opera naturale è con favella, ma così o così, natura lascia, puoi fare a voi, secondo che va bella. Siamo quasi al termine del viaggio ultramondano di Dante. Dante sta per accedere alla visione beatifica di Dio. Per la precisione, la parte conclusiva del ventiseiesimo canto del Paradiso, di cui ci occuperemo più direttamente, ci porta nel momento della narrazione del poema, in cui Dante, dopo aver assistito al glorioso trionfo di Maria e poi al glorioso trionfo di Cristo, e dopo essere stato esaminato, con successo, sulle tre virtù teologali da parte dei tre apostoli della trasfigurazione, cioè San Pietro, San Giacomo e San Giovanni, che lo interrogano rispettivamente sulla fede, sulla speranza e sulla carità, Dante incontra il protoparente, Adamo, il primo uomo creato da Dio. Questo incontro è un incontro molto interessante da diversi punti di vista. Dante effettivamente ha delle questioni che vorrebbe sottoporre ad Adamo. Adamo che legge questi dubbi di Dante direttamente nella mente di Dio, e quindi risponde direttamente alle domande che Dante intende sottoporre. Le domande sono effettivamente quattro e sono queste. La prima è quanto tempo sia passato dalla sua creazione, cioè fondamentalmente quando è stato creato il mondo. La seconda è questa, quanto tempo Adamo abbia trascorso nel Paradiso terrestre. La terza è quale sia stata realmente la colpa che ha determinato il castigo divino e quindi l'ha cacciato dal Paradiso terrestre. E l'ultima, che è quella di cui ci occuperemo più direttamente, quale fosse la lingua parlata da Adamo ed Eva, evidentemente, nel Paradiso terrestre. Quale fosse dunque la lingua originaria dell'essere umano, così come Dio lo ha creato. Ecco, nei versi che abbiamo letto in apertura di questo video, Adamo per l'appunto risponde a quest'ultimo quesito di Dante e ci dà alcune informazioni che adesso sintetizzo. Le informazioni sono queste. Anzitutto Adamo fornisce a Dante l'indicazione per cui la lingua che egli parlava, nel momento in cui è stato creato, si è completamente estinta. Indica anche quale è stato il momento in cui la lingua da mitica, il primiloquio potremmo definirlo, si è estinto. Il momento è quello della confusio linguarum, cioè della confusione delle lingue, che sarebbe subentrata, sarebbe stata determinata dalla volontà divina, in seguito alla costruzione della torre di Babele ai tempi di Nemrod, che viene per l'appunto qui citato. Siamo tra il capitolo decimo e l'undicesimo della Genesi. La costruzione empia e superba della torre di Babele suscitò la reazione divina che non si sarebbe limitato a distruggere la torre, ma avrebbe appunto determinato e provocato anche la confusione delle lingue. Quindi l'estinzione della lingua originaria è la nascita dei diversi idiomi parlati nel mondo. Ora, la prima cosa che vorrei osservare, a proposito di questo primo aspetto, poi vedremo anche gli altri, del discorso di Adamo è questa. Qui Dante corregge una indicazione che aveva fornito nel De Vulgari Eloquenzia, e per la precisione nel quarto capitolo del primo libro del De Vulgari Eloquenzia, dove Dante aveva affermato che la lingua di Adamo, la lingua di cui Dio aveva dotato Adamo nel momento della creazione, era la lingua ebraica. Quindi sì, sarebbe avvenuta la confusione delle lingue, però la lingua ebraica avrebbe conservato questa sua identità primigenia, corrispondendo in tutto e per tutto alla lingua originale degli esseri umani. Quindi evidentemente Dante sta correggendo una sua iniziale convinzione, una sua iniziale impressione. Certamente nel corso dei tre lustri che separano il De Vulgari Eloquenzia da questo canto del paradiso, Dante ha potuto rimeditare la questione linguistica. C'è poi una seconda indicazione importante che Adamo fornisce a Dante in questa sua risposta, che è questa. Le lingue, le lingue parlate dagli esseri umani, inclusa anche la lingua primigenia, sono degli, dice Adamo, degli effetti razionabili, cioè sono degli, diciamo così, dei prodotti dell'attività ragionativa, dell'attività razionale propria della natura umana. In quanto tale, la lingua è un oggetto che è passibile di evoluzione, di mutamento, di trasformazione continua. Dice Adamo che muta seguendo il cielo. Qui Dante introduce l'elemento astrologico, cioè questo elemento di determinazione astrologica sulle trasformazioni di tutto ciò in generale che riguarda gli esseri umani, in questo caso specifico l'evoluzione appunto della lingua parlata dagli esseri umani. Ecco, la cosa interessante è che Dante si mostra consapevole che gli idiomi parlati dagli esseri umani, in quanto soggetti all'uso e prodotti della ragione umana, sono costantemente mutevoli, sono soggetti a variazione continua. Questa è un'acquisizione fondamentale della linguistica moderna, ma certamente Dante dovette ricordare un passaggio celebre dell'arte poetica di Orazio, ai versi 60-62, dove Orazio propone questo parallelismo interessante tra la variazione linguistica e il mutare delle fronde degli alberi a cadenza annuale, cioè come gli alberi rinnovano annualmente le loro foglie, così avviene anche per le lingue parlate dagli esseri umani, che sono continuamente soggetti a trasformazioni. E infatti Dante afferma, per bocca di Adamo, che l'uso dei mortali è come fronda in ramo che se ne va e altra viene, cioè le parole, l'uso linguistico più in generale, sono come le foglie degli alberi. Una se ne va e ne nasce subito dopo un'altra diversa. Questa mutazione di prospettiva sulla lingua originaria coinvolge evidentemente, ed è ciò che più ci interessa nel nostro discorso, anche quello che, secondo Dante, dovette essere il primo e autentico nome di Dio, il modo cioè in cui Adamo chiamò Dio. Perché dico questo? Perché sempre nel passo del De vulgari eloquenzia, che richiamavo prima, Dante aveva affermato che, visto che la lingua ebraica coincideva di fatto con l'idioma primigenio, il primo nome di Dio coinciderebbe con il modo in cui in ebraico si dice Dio. E quindi, secondo Dante, il primo nome di Dio sarebbe stato El, nel De vulgari eloquenzia. Ma qui abbiamo letto, in questo passaggio del ventiseiesimo canto del paradiso, Dante dà un'indicazione non solo nuova, ma anche abbastanza stravagante, che ha impegnato effettivamente gli studiosi e i critici, non poco, perché Dante dice che il primo nome di Dio sarebbe stato I, semplicemente I. Questa è una questione davvero molto gustosa, perché si è scritto tantissimo, si è tentato in modi molto diversi, percorrendo le strade più disparate, di risolvere questo piccolo grande enigma, perché Dante afferma che il primo nome di Dio sarebbe stato I. Ci sono delle ragioni linguistiche, delle ragioni teologiche, delle ragioni simboliche, o chissà che cos'altro. Ecco, diciamo che la maggior parte dei commentatori è del parere che si tratti di una invenzione dantesca. Qui Dante sta esercitando la sua straordinaria fantasia, la sua straordinaria creatività, e avrebbe individuato in questo suono vocalico, semplice, pulito, che coincide tra l'altro con un grafema che forse è il più semplice da tracciare sulla pagina. Ecco, attraverso questo espediente sarebbe indicando il primo nome di Dio. In genere, alla base di questa, che secondo molti dovrebbe essere un'invenzione di Dante, potrebbe esserci la suggestione legata al valore numerico che nella lingua latina e nella scrittura soprattutto latina il segno dell'asta verticale assume, cioè è il modo attraverso cui in latino si indica l'unità, l'unità numerica. Ora, è del tutto evidente, qui le suggestioni possono essere molteplici, dall'uno, l'uno platonico, che è il modo in cui tradizionalmente la filosofia ha pensato la divinità, ma l'unità del divino che è anche la base della teologia cristiana. Ecco, Dante quindi si sarebbe servito di questa suggestione legata all'unità e al modo in cui in latino si indica l'unità numerica per designare anche il nome di Dio, il primo nome di Dio. Ampliando lo sguardo ad altre situazioni, ad altri contesti culturali, trovo molto interessante una serie di coincidenze, chiamiamole così, che sono quelle per cui in altre culture, altri contesti linguistici e tradizionali, il modo attraverso cui si indica l'unità, quindi torniamo a questo concetto che secondo me è comunque un concetto cardino, nel momento in cui si indica l'identità anche onomastica della divinità, ebbene l'unità è indicata proprio attraverso il segno dell'asta che può essere disposto in verticale, come ad esempio nel caso della numerazione romana, ma anche nel caso della numerazione araba, d'accordo, la forma è tutto sommato quella dell'asta verticale, oppure dell'asta disposta orizzontalmente, come nel contesto della scrittura ideogrammatica cinese, dove appunto l'unità è rappresentata per l'appunto con il segno di un'asta, un piccolo segmento disposto orizzontalmente. Guarda caso, ecco questa è una cosa che mi colpisce davvero, la resa fonetica di questo ideogramma cinese che indica l'unità è proprio I. non tutti i commentatori sono d'accordo, almeno non tutti quelli che sostengono questa prima ipotesi interpretativa, per esempio vorrei citare Umberto Eco che in un celebre saggio che si intitola La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, ecco in questo saggio Eco afferma che sarebbe poco plausibile che Dante abbia scelto proprio fa sorridere, scusate, stiamo parlando di Umberto Eco, ma effettivamente mi sembra un'affermazione alquanto grossolana, tutto sommato, purtroppo. Ma insomma, Eco afferma che sarebbe poco plausibile che Dante si sia servito del grafema che serve a indicare la quantità minima per designare Dio, che invece è la somma di ogni bene, quindi sono delle valutazioni quasi mercantili, ecco, che sorprendono in un osservatore e in un intellettuale acuto come Umberto Eco. Ma al di là di questo, alla voce L della enciclopedia dantesca, Angelo Penna osserva che in una lettera di San Girolamo, la lettera venticinquesima Ad Marcellam, San Girolamo per appunto, cito, elenca i nomi di Dio in ebraico. Fra essi ricorda anche Ya e Yahweh, che dichiara ineffabile, indicandone le singole lettere consonanti, che sono Yod e Vav e, correttamente. Ora fa bene Angelo Penna a richiamare quella che è, diciamo, la prima suggestione, la prima indicazione possibile riguardo al nome di Dio in lingua ebraica, cioè quell'indicazione legata appunto al cosiddetto tetragramma, cioè la forma del nome ineffabile di Dio, un nome consonantico in quattro lettere, e a quella del digramma, cioè le due lettere, che è molto ben attestata nelle scritture, perché? Perché da Girolamo questa stessa indicazione arriva fino al Medioevo più basso, attraverso l'opera in particolare di un autore molto noto in generale, cioè Isidoro di Siviglia, autore, come si ricorderà, di un'enciclopedia etimologica che era una delle basi dell'istituzione e della formazione appunto culturale del Medioevo. Sia Girolamo, sia Isidoro, e anche un altro autore che è un po' meno noto, ma che probabilmente Dante conosceva, cioè Rabano Mauro, in un'opera che si intitola De Universo, riferiscono questa dottrina dei nomi divini. Per la precisione, questi autori concordamente riferiscono dell'esistenza di dieci nomi divini, che sono questi. Voglio dire anche che tutti questi autori riferiscono dell'esistenza di questi dieci nomi divini che presentano accompagnandoli con una traduzione in lingua latina. Allora, i nomi che San Girolamo, Sant'Isidoro di Siviglia e anche Rabano Mauro presentano sono questi. Il primo è El, che viene tradotto come Forte. Il secondo e il terzo sono Eloi ed Eloè, che dovrebbero significare in queste etimologie abbastanza fantasiose tutto sommato, dovrebbero significare timore. Il quarto nome è Sabaoth, che significa correttamente degli eserciti. Il quinto Elion, che invece significa eccelso. Poi c'è il sesto nome che è Eie, viene dalla formula, dalla celebre formula biblica Eie, Asher, Eie, io sono colui che sono, e infatti questi autori lo presentano come colui che è, tradotto così. Il settimo nome è Adonai, che significa signore, l'ottavo è Ia, che non viene tradotto, quindi la forma del digramma, subito dopo viene presentato il tetragramma, che invece viene non tradotto, ma forse definito come ineffabile, e poi c'è Shaddai, che invece viene tradotto come Onnipotente. Allora, qui ci sono già alcuni elementi interessanti per il nostro discorso. Il primo è che di tutti i nomi si offre una traduzione, tranne che del nome Ia, che viene presentato tale quale, semplicemente. C'è poi un altro aspetto piuttosto interessante, perché sempre nelle sue etimologie Isidoro di Siviglia afferma che il tetragramma di fatto non sarebbe altro se non una geminazione, cioè un'iterazione del nome semplice Ia. Quindi il tetragramma di fatto non è altro secondo questi autori, non è così, non è così, però a noi interessa capire come questi autori interpretavano questi elementi e come possono essere arrivati fino a Dante. Quindi di fatto il tetragramma, il nome diciamo così più utilizzato, più noto, più diffuso nelle scritture di Dio, non sarebbe altro se non una duplicazione di questo Ia, che sarebbe a questo punto un doppio ineffabile, se tetragramma, come abbiamo visto è l'ineffabile, quindi il doppiamente ineffabile. Allora, queste indicazioni sono davvero molto interessanti, però a questo punto noi potremmo chiederci ma se Dante, come eppure plausibile, aveva presenti questi testi e se avesse realmente voluto riferire come nome originario di Dio questo nome Ia avvolto come abbiamo visto nella percezione degli autori medievali di sacralità e allora perché nel poema non ha introdotto il nome Ia anziché I? Sarebbe stato del tutto plausibile anche dal punto di vista metrico. Ia s'appellava in terra al sommo bene. Non lo fa però, introduce questa I e quindi diciamo pure che dobbiamo cercare altro, dobbiamo cercare altro. L'autore dell'ottimo commento che è uno dei più importanti commenti antichi della commedia ottimo è stato definito nel XVI secolo non per la qualità delle informazioni che offre ma proprio in base ad una valutazione della qualità del volgare toscano in cui è scritto questo commento della commedia commentando appunto il 26esimo canto del paradiso indica con precisione quella che a suo dire è la fonte diretta del passo a cui Dante si sarebbe ispirato e l'autore anonimo dell'ottimo commento la individua in un de proprietatibus rerum che viene dall'autore dell'ottimo attribuita proprio ad Isidore di Siviglia scrive il commentatore medievale Dante dice che innanzi che Ello cioè Adamo morisse il Dio era chiamato I poi si chiama Ella nel libro De proprietatibus rerum libro primo capitolo primo infine quindi dà proprio una indicazione molto precisa molto circostanziata ora però c'è un piccolo problema è un problema che i filologi conoscono molto bene noi non conosciamo nessuna opera di Isidore di Siviglia che sia nota con il nome di con il titolo dei proprietati bus rerum né nell'opera del Sivigliano questo passo è mai stato rinvenuto quindi questa è l'indicazione a una fonte che potrebbe essere stata citata male a memoria oppure a una fonte che non ci è pervenuta ci è pervenuto un De proprietatibus rerum ma è l'opera di un altro autore di Bartolomeo Anglico un autore francescano attivo tra Oxford e Parigi nel corso del XIII secolo ma nell'opera di Bartolomeo Anglico non si trova nessun passaggio che sia riconducibile all'indicazione dell'ottimo commento c'è un altro autore molto noto nel Medioevo molto importante anche per la formazione degli intellettuali medievali che è Uguccione da Pisa Uguccione da Pisa è autore di uno dei più diffusi dei più sfruttati dei più noti dei più copiati lessici medievali un lessico che si intitola Magne Derivaciones e che introduce la spiegazione del nome divino Ia subito dopo la presentazione della lettera alfabetica I voglio citare il testo per rappresentare proprio il modo in cui il discorso è strutturato sequitur delittera coevocatur I Ia est nomendei secundum quod est invisibilis Ia è il nome di Dio in riferimento al fatto che Dio è invisibile e quindi introduce questa ulteriore suggestione etimologica cioè Ia avrebbe a che fare con l'invisibilità di Dio e poi dice ex quod et allelu quod est laus ve laudate componitur alleluia id est laus invisibilis eccetera cioè da cui viene anche allelu che significa lode o lodate che si compone da cui si compone scusate alleluia che significa lode dell'invisibile o lodate l'invisibile in effetti la parola alleluia che non è una parola ma è una vera frase in ebraico significa semplicemente lodate Ia lodate Yahweh d'accordo quindi è un imperativo lodate Ia quindi qui è interpretato correttamente salvo questo riferimento all'invisibilità di Dio che non ha nulla a che fare con questo nome divino Ia che si è detto per inciso ha un'etimologia assolutamente oscura assolutamente incerta ecco l'elemento che io trovo interessante in questo passaggio di Ucione da Pisa è proprio il modo in cui viene introdotto il nome divino subito dopo la presentazione della lettera direi che potremmo quasi dedurne che per Ucione la semplice lettera I vista come dire l'immediatezza del richiamo del nome di Dio basti a suggerire il collegamento con questo stesso nome però ecco si capisce che è uno spunto piuttosto labile questo ecco certamente non del tutto soddisfacente ora fin qui abbiamo percorso delle vie tutto sommato canoniche cioè le prime vie interpretative e di ricerca che qualunque medievista potrebbe plausibilmente percorrere sempre nel saggio di Umberto Eco che ho menzionato prima si fa riferimento a una figura una figura molto interessante che è quella di Abram Abulafia Umberto Eco propone cioè di seguire una pista del tutto alternativa per capire l'origine di questa bizzarra informazione che Dante dà nel 26esimo canto del del Paradiso a proposito del nome primigenio di Dio e la pista è quella del mondo della cabala ebraica Abram Abulafia era per l'appunto un importante cabalista che visse e operò in Italia più precisamente a Roma diciamo tra il 1260 e il 1270 quindi per circa un decennio e in Sicilia dove trascorse l'ultima fase della propria vita che presumibilmente si concluse nel 1290 e Abulafia è il più importante esponente di quella corrente della cabala che è definita cabala estatica o cabala dei nomi allora quali sono i capisaldi di questa scuola cabalistica ecco diciamo che secondo questa corrente della cabala le 22 lettere dell'alfabeto ebraico rappresenterebbero i suoni naturalmente producibili dall'apparato fonatorio umano quindi sono come dire i fonemi di base che l'essere umano può produrre però non basta perché un altro elemento importante della cabala dei nomi è quello per cui i suoni i suoni che l'essere umano può produrre attraverso il proprio apparato fonatorio non sarebbero delle pure semplici vibrazioni acustiche ma sarebbero il materiale attraverso cui Dio avrebbe fatto avrebbe creato la realtà quindi la materia fonica del linguaggio dal punto di vista di questa scuola cabalistica è la materia che Dio stesso avrebbe usato per fare ciò che ha creato per creare il mondo ecco si capisce che a partire da questa suggestione la parola i suoni hanno un potere che non è semplicemente quello di veicolare un messaggio come in alcune moderne dottrine linguistiche ma la lingua ha a che fare con la struttura profonda della realtà e manipolare la lingua dunque dal punto di vista di questi cabalisti consente di agire in maniera indiretta sulla realtà ci sono delle spie diciamo così che ci consentono di verificare l'ipotesi che Dante conoscesse l'opera di Abulafia Dante che voglio dire mostra soprattutto nella commedia ma non solo di avere chiare nozioni di quelle dottrine di quelle scienze che oggi potremmo definire occulte con un termine impreciso quanto generico in particolare potremmo riferirci all'astrologia la più sfruttata da Dante ma non solo anche alla fisiognomica alla geomanzia alla piromanzia all'idromanzia e c'è in particolare un saggio di Guglielmo Gorni ricordo del 1990 che si intitola lettera nome numero l'ordine delle cose in Dante in cui ecco questo illustre studioso di Dante esplora le nozioni che appunto Dante mostra di possedere di tutto questo dominio delle scienze occulte nella sua opera ecco dicevo ci sono delle spie degli indizi piuttosto chiari del fatto che Dante conoscesse l'opera di Abulafia per quale motivo e quali sono queste spie beh anzitutto Abulafia parte dall'idea che il linguaggio umano sia una costruzione convenzionale e abbiamo visto che è esattamente l'approdo della riflessione linguistica di Dante proprio nel passo del paradiso a cui ci stiamo riferendo e che stiamo commentando questo è un elemento interessante anzi mi spingeria a dire che probabilmente la conoscenza dell'opera di Abulafia può aver avuto un ruolo importante nel far cambiare idea a Dante che inizialmente credeva che tra le lingue parlate nel mondo ne esisterebbe una cioè la lingua ebraica che avrebbe conservato la sua come dire il suo statuto originario dice Dante forma locuzionis cioè la matrice di tutte le lingue corrisponderebbe cioè esattamente alla lingua parlata da Adamo prima della confusione babbelica dunque inoltre come Dante anche Abulafia crede nella possibilità di recuperare quella forma locuzionis perché in fondo il lavoro che Dante porta avanti nel De vulgaria eloquenzia non è semplicemente la ricerca di una lingua puramente convenzionale che arbitrariamente ha i caratteri della lingua illustre del vulgare illustre che lui sta cercando deve essere una lingua che per sua natura ha delle caratteristiche che la avvicinano appunto a quella matrice linguistica originaria che in quanto tale si è estinta ecco anche questa è un'idea che Dante condivide con Abulafia ora dicevo però che l'idea di fondo della cosiddetta cabala dei nomi di Abulafia è quella per cui maneggiando la materia fonica si può intervenire sulla realtà attraverso dei procedimenti che non sarebbe forse errato definire magici cioè che cos'è la cabala in generale e che cos'è la cabala dei nomi in particolare è un modo per agire sulla realtà attraverso delle tecniche di manipolazione linguistica in particolare delle tecniche di manipolazione del nome divino o dei nomi divini cabala dei nomi d'accordo? quindi per sintetizzare in generale tutta la materia fonica ha questa proprietà che è fondata poi sull'isomorfismo del suono rispetto alla realtà ma più precisamente più specificamente e in maniera molto più efficace la materia fonica che costituisce il nome o i nomi di Dio è ancora più efficace da questo punto di vista ora c'è un principio fondamentale che possiamo ricavare da uno dei capolavori della cabala estatica il libro che si intitola Perush Avdalah e che cito il testo siccome per le lettere del nome del nome cioè del nome divino ciascuna lettera è un nome sappi che lo iod è un nome e ià è un nome ora questa è una indicazione preziosissima se ci si riflette su perché qui ci si sta dicendo che il nome di Dio è di fatto sintetizzabile in ognuna delle lettere che lo costituiscono e in particolare questa fonte ci dice che iod cioè il suono i è nome e si capisce che ci stiamo avvicinando a un territorio molto interessante da esplorare per capire ciò che stiamo cercando di capire cioè qual è la fonte di Dante Dante mostra una serie di coincidenze davvero interessanti il suo pensiero mostra una serie di coincidenze interessanti molto interessanti con questo ambito così particolare e così negletto forse anche negli studi di letteratura italiana e allora se la via della tradizione cabalistica è con tutta probabilità quella giusta per capire da dove Dante abbia recuperato questa idea così bizzarra l'abbiamo definita per cui il primo nome di Dio sarebbe stato i tuttavia ecco questo non ci lascia ancora del tutto soddisfatti continuiamo a chiederci per quale ragione Dante abbia scelto di indicare come primo nome di Dio proprio questa forma particolare ridotta così all'essenza la prima consonante del tetragramma del tetragramma Yod e allora vorrei citare un altro testo importante della tradizione cabalistica che è il Mahayan a Okmah che significa tradotto la fonte della saggezza si tratta di un'opera di uno dei discepoli dell'importante cabalista provenzale Isacco il cieco siamo sempre nel tredicesimo secolo nella prima metà del tredicesimo secolo ecco qui si sostiene in quest'opera che l'origine di ogni processo linguistico è da individuare in due consonanti specifiche la prima è Yod la seconda è Aleph Aleph che è la prima lettera dell'alfabeto ebraico secondo appunto l'autore di questo libro sarebbe l'intonazione laringale in effetti Aleph non ha un suono se non questa sorta di aspirazione un suono aspirato viene interpretato da questo cabalista come l'inizio di ogni manifestazione linguistica cioè il suono che avvia la produzione fonica vera e propria cioè una sorta di emissione di fiato che sarebbe preliminare ad ogni produzione verbale e linguistica e da un punto di vista metafisico Aleph sarebbe diciamo così rappresenterebbe cito questo testo il punto zero della manifestazione e chi lo pronuncia con muta intonazione accenna a ciò o a colui che è uno esso è il più interno e il più nascosto di ogni altra lettera cioè detto in altre parole tradotto insomma in concetti più facilmente afferrabili Aleph alluderebbe al principio metafisico della manifestazione colto in quanto tale colto nella sua natura metafisica la lettera Yod invece avrebbe un altro significato che cos'è Yod che cosa rappresenta secondo questo cabalista Yod è definito come la fonte zampillante scrive quest'autore di ogni processo linguistico che si differenzia all'infinito per poi tornare nuovamente alla sua origine quindi qui viene sottolineata da questo cabalista l'idea dello svolgimento non semplicemente l'idea dell'avvio vista dal punto di vista del principio ma l'idea della come dire della manifestazione colta in quanto tale ecco quindi che cosa sarebbe Yod nell'interpretazione metafisica di questo di questo cabalista sarebbe la rappresentazione del principio non considerato in sé per sé ma considerato dal punto di vista della manifestazione quindi dal punto di vista della realtà manifestata d'accordo quindi Aleph e Yod lo dico in parole ancora più semplici sperando di essere compreso Yod e Aleph sarebbero nient'altro che le due facce della stessa medaglia e questa medaglia è il principio il principio metafisico della realtà di cui Aleph rappresenta la natura trascendente metafisica mentre Yod rappresenta il suo declinarsi nella realtà manifestata in questa concezione che potremmo che è la concezione tradizionale poi del rapporto tra l'unità e la molteplicità che potremmo in grosso avvicinare alla dottrina plotiniana dell'emanazione ma giusto per comprenderci d'accordo c'è un altro testo che vorrei citare a proposito dell'interpretazione della Yod che è il famosissimo Sefer Yezira cioè il libro della formazione cosiddetto il più importante il più noto il più studiato testo cabalistico di tutti i tempi dove a proposito della lettera Yod si legge questo io mi sono basato su una traduzione francese che vi propongo in italiano ha fatto regnare la lettera Yod sopra la azione e gli ha cinto una corona e ha permutato l'una con l'altra e con esse ha formato la vergine nell'universo cioè la costellazione della vergine nell'universo il mese di Elul durante l'anno e la mano sinistra nell'anima allora il linguaggio di questo cabalista non è semplicissimo però ecco intanto si dice che la lettera Yod presiede all'azione e questo è assolutamente compatibile con quello che dicevamo a proposito dell'interpretazione cabalistica della Yod come la lettera che si riferisce al principio ma dal punto di vista della manifestazione è una lettera coronata cioè ha a che fare appunto con il principio nel senso che dicevamo è una lettera collegata alla costellazione della vergine che è in congiunzione col sole appunto negli ultimi mesi estivi tra agosto e settembre per l'appunto è la cosa forse più interessante io adesso non voglio addentrarmi in speculazioni di carattere astrologico però ecco chi ha un minimo di curiosità per questo tipo di discorsi sa benissimo che chi è nato sotto il segno della vergine ha delle inclinazioni particolari e per essere ancora più espliciti particolarmente legate all'azione no? All'azione alla concretizzazione dell'idea nella dimensione della pratica ecco la cosa interessante è tra le altre che qui la lettera Iode è collegata col mese di Elul che è un mese penitenziale no? è un mese legato appunto alla pratica della della penitenza tra l'altro questo riferimento alla mano che si si presenta nello Seferi Ezira è molto interessante perché vabbè mano e azione per l'appunto sono due termini solidali dal punto di vista dell'estensione semantica ma ecco è interessante notare che l'etimologia del nome Yod è collegabile appunto con il termine ebraico Yad che significa per l'appunto mano e allora facciamo sintesi di questa lunga articolata escursione tra le fonti e diciamo che se Dante come io presumo avesse in mente se non proprio tutti questi riferimenti almeno almeno la base almeno l'opera di Abulafia diciamo così I come nome sacro farebbe riferimento per l'appunto al modo in cui potremmo pronunciare la lettera Yod e potremmo traslitterarla attraverso l'alfabeto latino che in quanto nome sacro simboleggia specificamente il principio in quanto origine della realtà manifestata in quanto cioè principio cosmico allora non dimentichiamo che il contesto in cui Dante colloca il momento in cui per la prima volta Adamo avrebbe pronunciato il nome di Dio è per l'appunto il contesto adamitico della creazione del mondo della creazione dell'umanità quindi è un contesto cosmologico e questo è confermato anche dalla chiara matrice cosmologica del contesto in cui si inserisce anche nel ventiseiesimo canto del paradiso questa indicazione dantesca per cui appunto lo ripeto ancora I sarebbe il primo nome di Dio uno dei dubbi di Dante torniamo un po' all'inizio del nostro discorso era questo quanto tempo è passato dalla creazione del mondo ad oggi sostanzialmente Adamo non risponde in maniera diretta ma ci costringe costringe Dante ma costringe anche noi a fare un po' di calcoli visto che il discorso è abbastanza complesso aggiungiamo un altro po' di complessità dice Adamo tra il verso 121 e il verso 126 del ventisesimo canto del paradiso onde mosse tua donna Virgilio 4300 e due volumi di sol desiderai questo concilio e vidi lui tornare a tutti i lumi della sua strada 930 fiate mentre ch'io in terra fuimi allora che cosa dice Adamo Adamo dà alcune indicazioni due per la precisione cronologica che sono queste quanto tempo è passato dalla morte di Adamo alla discesa di Cristo agli inferi e quanto è durata la propria vita d'accordo? queste sono le due le due indicazioni che Adamo offre a Dante ecco il primo periodo cioè ripeto quanti anni egli abbia atteso nel limbo cioè il periodo trascorso dalla morte alla discesa di Cristo agli inferi quindi secondo la cronologia tradizionale al 33 dopo Cristo ecco questo primo periodo è calcolato secondo la cronologia offerta da Eusebio di Cesarea e corrisponde come dice come dice Adamo a 4302 volumi di Sol cioè 4302 anni la durata della vita di Adamo è quella che si può recuperare dalla Genesi più precisamente dal capitolo quinto della Genesi è precisamente di 930 anni alla somma così ottenuta cioè gli anni della vita di Adamo gli anni trascorsi dalla morte di Adamo al 33 dopo Cristo che è appunto 5232 devono essere aggiunti i 1266 anni che vanno dalla morte di Cristo al 1300 non dimentichiamo che la commedia è ambientata nella primavera del 1300 otteniamo la cifra di 6498 anni 6498 anni che sono appunto il periodo che va dalla creazione di Adamo al 1300 d'accordo? ora la cosa interessante è che questo lasso di tempo corrisponde in maniera abbastanza precisa con uno scarto soltanto di 42 anni alla metà del cosiddetto Magnus Annus la metà del grande anno che cos'è questo Magnus Annus? è l'anno astronomico in cui si compie una rivoluzione completa di tutte le costellazioni della volta celeste un'epoca che come Dante poteva desumere da Servio commentatore di Virgilio aveva la durata di 12.954 anni solari ora nelle dottrine tradizionali il grande anno costituisce un ciclo di manifestazione diciamo così cioè un ciclo di creazione decadimento e rigenerazione cosmica e coincide circa con la metà del periodo della precessione degli equinozi che invece è di 25.920 anni quindi abbiamo ecco tenendo presente questo scarto di 42 anni ma attenzione il numero 42 è un numero che ha una pregnanza simbolica fortissima cioè non sembra casuale neppure questo ecco ad esempio si ricorderà che secondo l'indicazione scritturale 42 sono le generazioni che intercorrono tra Adamo e Gesù Cristo e poi c'è un'indicazione che possiamo ancora recuperare dal mondo della cabala della letteratura cabalistica sempre legato al numero 42 per cui esisterebbe un nome sacro costituito di 42 lettere che sarebbe appunto il nome più sacro di tutti operando sul quale si riesce a agire in maniera efficacissima sulla realtà d'accordo quindi se accettiamo che Dante potesse avere contezza di quelle indicazioni della cabala estatica a cui abbiamo fatto riferimento prima non è implausibile che conoscesse anche questo nome divino a 42 lettere insomma la cosa interessante però è che in questo contesto cosmologico Dante dia un'indicazione numerica che è legata a queste a questi lunghissimi periodi astronomici che hanno non solo un valore astronomico ma che come dicevo prima nell'interpretazione delle scienze tradizionali diciamo così hanno acquisito un valore che è quello di scandire le epoche della manifestazione ciclica della realtà ora mi rendo conto che questo lungo viaggio forse non sia stato semplicissimo da seguire però questa serie di informazioni serviranno forse a farci comprendere se non che cosa avesse in mente Dante quando ha scritto che il nome originario di Dio era I almeno a farci intuire il fatto che esiste davvero qualcosa di molto generale trasversale direi persino universale un corredo di nozioni primordiali che come abbiamo potuto vedere hanno favorito in contesti culturali molto diversi l'associazione dell'idea del divino e del principio al più elementare dei segni se vogliamo cioè il segno di un piccolo segmento un piccolo segmento che tra l'altro andando anche a osservare le manifestazioni grafiche di quelli che in genere vengono definiti petroglifi che le civiltà preistoriche ci hanno lasciato è un segno molto attestato comunque stiano le cose sono molto volentieri disposto a riconoscere che nonostante l'ampiezza di questa digressione ecco qui siamo appena a un primo dissodamento di un percorso che francamente faccio persino fatica a immaginare da quanto lo intuisco esteso personalmente trovo molto affascinante constatare mi capita spesso come ogni volta che si cerchi di dissodare una questione legata alle conoscenze tradizionali in realtà si finisca per affacciarsi su dei veri e propri baratri di cui difficilmente si vede il fondo certamente la nostra ansia di conoscenza e di sistemazione delle informazioni che possiamo ricavare dal nostro studio ne risulta decisamente frustrata però devo dire che è anche il fascino di questo tipo di studi è bello a volte sentirsi piccoli davanti alla vastità di certe questioni per dirla con leopardi è bello naufragare in questo mare